Allora, come penso abbiate già visto con i vostri occhi, in questa zona, diciamo, marginale del nostro Stato, abbiamo appena iniziato a edificare una nuova area che si chiamerà Los Gordos Shopping Center. Sarà una zona dedicata alle attività commerciali. Per ora abbiamo semplicemente un'officina che è stata costruita dai nostri architetti ad hoc. Come vedete, lo stile rispecchia sempre quello di Los Gordos, un benzinaio e un supermercatino. Diciamo che è in fase ancora di sviluppo. Questa è un'area, come vedete, che è sprovvista di recinzioni per facilitare l'ingresso a tutti i consumatori, ma logicamente, essendo comunque il nostro uno Stato sicuro, più avanti sono presenti altre recinzioni che vanno poi a bloccare l'ingresso di malintenzionati all'interno dello Stato vero e proprio. Certo. Relativamente alla difesa dei nostri confini, come potrete notare, ci sono diverse torrette di avvistamento sparse in giro lungo il nostro perimetro, che permettono alla nostra milizia di controllare al meglio i confini e quindi proteggere i cittadini nella maniera migliore possibile. Questo è l'ingresso ufficiale, principale. Come vedete abbiamo il nostro cartello e la milizia, nonché l'esercito di Los Gordos, si occupa di perquisire ogni singola persona che vuole entrare all'interno dei confini e di accompagnarli poi personalmente dove vogliono andare fondamentalmente. Ognuno può andare dove vuole, ci sono tanti posti dove si può andare qui a Los Gordos. Le strade sono chiaramente strade di montagna. Diciamo che preferiamo mantenere uno stile più semplice, che non vada a impattare troppo sull'ambiente. Abbiamo evitato di asfaltarle, anche perché ci piace avere comunque la natura attorno a noi e non distruggerla. Quando arriva qui, si trova davanti questo bivio. Sulla sinistra, come indica il cartello, c'è il cuore pulsante del nostro stato, che vedremo più avanti. Mentre qui a destra, non indicato dalle vrecce, troviamo una strada che ci porterà direttamente nella zona più alta, nonché una pista di atterraggio e decollo dei caccia che si occupano della difesa dei confini di Los Gordos. Nonché anche il riporto. Questa zona è ancora in fase di sviluppo, come tante altre. Verranno edificate tante strutture, tra cui anche probabilmente una taverna, che sarà il punto dei ritrovi di tutti i cittadini della città, anche di eventuali turisti. Abbiamo un hangar dove solitamente è parcheggiato uno dei nostri caccia. Adesso qualcuno apparentemente l'ha preso per qualche esercitazione. È un parcheggio per gli elicotteri proprio qua dietro. Una zona abbastanza semplice, comunque. Che ha più che altro al momento uno scopo difensivo, niente di più. Però ve l'abbiamo fatta vedere subito, in quanto risultava più comodo per il tragitto. Certo. E i caccia riescono a decollare? Assolutamente sì. Ma pista si è studiata. Poi anche a decollo verticale, quindi... È stata studiata per essere il più piccola possibile, ma funzionare al meglio. Infatti è piccola, ma riescono a decollare tranquillamente anche grazie a una rampa. Che permette loro di partire facilmente. Questa è la strada che porta direttamente alla Roccaforte e anche altre zone. Abbiamo installato delle staccionate laterali perché le persone andavano un po' fuori strada e si rischiava spesso di volare giù dal precipizio. Tutta quest'area a sinistra verrà poi edificata, come vedrete, in maniera simile ad altre zone che sono già state riempite. Qua, come indica la freccia, abbiamo la strada che porta direttamente alla Roccaforte dove andremo più tardi. Mentre qui a sinistra abbiamo una zona di nuova costruzione che stiamo ultimando con delle casette per alcuni cittadini che si sono trasferiti da poco. Qui a sinistra invece abbiamo una zona che è stata edificata anche questa da poco tempo ed è, diciamo, il quartiere della famiglia e dei parenti della signora Concetta. Loro ora abitano qui. Queste sono le loro case. Guarda che bella zona. Bel villaggetto. Hanno dovuto il necessario per vivere. Come vedete ci sono tutti i comfort in mezzo alla natura. Hanno anche una bella vista. Qui abbiamo installato diverse panchine. Un sacco di cose che permettono loro di vivere in serenità. Poi invece arriviamo al cuore pulsante del nostro stato, cioè la Roccaforte. Come vedete anche i cartelloni parlano chiaro. Abbiamo questo primo ingresso di sicurezza dove gli ospiti vengono fatti stazionare per essere controllati una seconda volta ed evitare che qualche malintenzionato si introduca. E qua siamo arrivati, ufficialmente, allo Sgordos. Questa è una sala che utilizziamo per gli incontri formali con eventuali ospiti, nonché la casa mia e dell'altro Sultano Martinez. Sopra abbiamo le nostre camere da letto. Complimenti, veramente. Grazie, grazie. Molto confortevole. Venite, venite. Continuiamo il tour. Avrete raffigurato la nostra moneta, il gordone, che è stato inciso in una grossa pietra ed esposto qui come monumento. Questo al momento è una sorta di punto di ritrovo in attesa che venga edificata la taverna. I ragazzi vengono qui a bere qualcosa, a consumare pasti, a sentire un po' di musica. Qualcuno viene a suonare. Abbiamo anche dei musicisti qui allo Sgordos, dei pianisti. Un pianista, dei cantanti. Suonano realmente, non impostori. Vengono qui, si vedono al piano e suonano. Sì, diciamo un punto di svago. Perché non c'è solo il lavoro. Quindi avete molto a cuore anche quello che è le persone che lavorano per voi. Non tutti edificano anche dei punti di svago per i propri collaboratori. Anche perché le ricordo che qui non è che lavorano, cioè ci vivono proprio. Quindi è giusto concedere anche questi momenti, concedere anche posti dove appunto sfruttare questi momenti. Lo Sgordos nasce con l'idea di regalare serenità a chi viene a vivere qui, quindi è il minimo costruire punti per svagarsi. Venite comunque. E questo evita di fargli andare altrove anche. Esattamente. Sì, ecco. Scusate questa domanda, ma forse i vari stati e i cittadini si erano fatti un'idea diversa di quello che era il vostro stato. In che senso? Ma no, trovare tutto questo è davvero interessante. Quora avanti abbiamo un edificio che purtroppo al momento non posso farvi vedere perché è la base operativa dell'intelligence. Quindi ci sono cose un po' riservate che non mi sembra. Comprendo. Comprendo, comprendo. Dovremo comunque apparecchiature di ogni tipo all'avanguardia. Mi piacerebbe veramente farglielo vedere però. Magari un giorno se dovessimo fare. Esatto. In un futuro. Qua abbiamo una semplice stanza comune dove i ragazzi della milizia riposano. Sono la loro camera da letto fondamentalmente. Riposano qui dentro. Si allenano, hanno una piccola palestrina, una piccola cucina e tutto quello che gli serve per vivacchiare qua dentro. Beh, si vedo che sono militari. Esatto. Sì, tutto ordinato. Qui come vede c'è il nostro orso, Rufus. Magari l'ha già incontrato d'Alea a Paleto. Sì, l'ho visto scorrazzare per Paleto. Lui riposa qua dentro. Questa è la sua gabbia. Solitamente sta qui. Lo portiamo spesso a fare dei giri. Rufus, come stai? Ciao, padre. Ciao, Zaccaria. Buonasera, padre. Buonasera. Buonasera, sindaco. Buonasera. Come stai, Rufus? Sempre in forma. Falli a fare un giro, Zaccaria, che è sempre qui dentro l'ultimamente. Gli ho dato di mangiare. Venite, venite. Continuiamo il tour. Abbiamo quasi finito. Lì davanti, come vedete, c'è il nostro estrattore di petrolio. Siamo autonomi anche sotto quel punto di vista. Qui invece abbiamo una sorta di mensa, una sala comune dove tutti i cittadini che vivono qui, nella Roccaforte e non al di fuori, si ritrovano per pranzare, cenare o semplicemente stare al caldo davanti a quel caminetto. Bello. C'è anche una cucina lì. Queste belle usanze che ormai non si trovano più in centro città. Sì. Abbiamo anche dei cuochi che si occupano abitualmente di procurarsi genere alimentari e cucinare per tutta la comunità ciò che serve per poi essere sempre riforniti di energia e lavorare al meglio. Lì in fondo un'altra roulotte totalmente accessibile, nonché dimora di alcuni ragazzi, come le roulotte qua dietro. E poi per concludere, questo che è una sorta di piccolo ambulatorio per il medico di lo sgordo, o meglio della Roccaforte. E fortunatamente per ora non ha mai avuto troppo da fare. È piccola ma ha tutto l'indispensabile per il dottore. Sì, sì. Poi già che non ne abbia bisogno, meglio così. Rida? Ma comunque c'è tutto in realtà. Non so se ci ha fatto caso. Sempre pronti se serve. Ma per la difesa dei confini della Roccaforte abbiamo anche delle torri di avvistamento. Pro due, una nord e una sud, che permettono ai ragazzi dell'esercito di supervisionare al meglio i confini. Io ho vari armamenti sparsi qua e là, come queste torrette fisse che... Speriamo che non doverlo utilizzare mai. Vi mostro il punto che preferisco, venite. Che ci siamo già passati davanti ma non ci siamo soffermati. Questa a destra invece... L'ha tenuto per ultima. Sì, non è niente di che in realtà, però è quello che preferiamo. Qua a destra vede i mezzi che utilizzano i nostri miliziani per girare nei confini, all'interno dei confini. Cioè, questi pick-up con delle armi montate sul retro. In realtà ho dimenticato un'altra cosa oltre a quello. Venga qui e gliela faccio vedere. Forse l'avrà vista sul giornale. Non so se legge spesso il giornale. Ma qualche volta. Però mi soffermo di solito su alcune notizie ultimamente poi riguardanti a Paleto. Ah, guardi. Ha beccato giusto in tempo il boia che sta sistemando il patibolo, sì. Come penso adesso. So che può sembrare un po' macabra come cosa, però fa comunque parte di lo sgordos. È una figura, il boia, che è quella che vedete, che si occupa di curare il patibolo e farlo trovare sempre pronto. Però l'abbiamo dovuto utilizzare solo una volta, quindi non si è spaventi. Avete le armi con la sicura, immagino, sì? Sì, io non ho armi. Ah, meglio così. Perché qui bisogna stare molto attenti, venite. Qui abbiamo una delle due testate nucleari che ci permettono di vivere in serenità. Questo è il Big Fat Gordon, fratello minore del Super Big Fat Gordon che magari un giorno vi mostreremo. È una testata nucleare. Adesso sono impressionato davvero. Adesso sì, sono impressionato. Aspettavo tanto. Non spaventatemi, è puramente per difesa, non peraltro. No, 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 lo immagino, lo immagino. Venite, vi faccio vedere un'altra cosa. Una cittadina molto ben fornita. Beh, questo non fa parte della città, quello è fondamentale per la difesa. Signor Brescia, venga. Sì, 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 forse è meglio. Sei prepari a vedere la cosa più incredibile che lei abbia mai vista in vita sua? Tenetemi un po' lontani perché non si sa mai. Eh, ai, 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 ai. Oh, cavolo. Parca troll. Oh, merda. Che cazzo è, non ho sciato? Ora parte sicuro perché è buggato. Mannaggia. Eh, non fateci caso. Moreno rimendolo dentro. No, 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 no. No, 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 no. No, è ancora qua davanti. È ancora qua, io lo vedo qua davanti. Anche io lo vedo qua davanti. Questo è il Super Big Fat Gordon. È proprio big. Una versione più potente di quella che avete visto prima. Sono molto, molto affascinato da tutto, anzi. E tutto questo potrà essere dalla sua parte se dovesse decidere di stringerci la mano. Certo. Tutto. Diventerebbe casa sua. Come le avevo già accennato, questo che ci stiamo facendo è un vero pur parler in piedi, dove c'è già una mezza stretta di mano, però è consuetudine, meglio farlo in un ufficio seduti con i vari organi competenti del suo e del nostro Stato, definire quelle che sono, diciamo, le linee guida e il dopo può esserci una stretta di mano vera e propria. Certo. Caius, chiedi a qualcuno se ci fa la foto, che viene anche te. Si occuperà lei di mandare la foto, signor Brescia? Sì, assolutamente. Ottimo. Foto sul giornale. No, anzi. Mani concerte, no, che sembra... è un simbolo di chiusura, cosa che in queste due chiacchiere non c'è. Togliamo le mani concerte. Non c'è una chiusura. Fatta, l'amandias. Fatta, fatta, fatta. Ottimo, l'amandias, signor Brescia. Perfetto. La ringrazio. Mi dia il suo contatto che gliela gira. Sì, 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 in gamba, in gamba. Ma raga, ma immaginate cosa può succedere se ci fondiamo a paleto, raga, militarizziamo tutto, tutto, mettiamo esercito ovunque, basi militari ovunque. Ottimo.